Tutte le attività commerciali che hanno aperto, che stanno per farlo, sono obbligate dalle disposizioni nazionali a seguire precisi protocolli di sanificazione dei locali e delle apparecchiature. Questa operazione, a un costo che salvo lo sgravio previsto a livello nazionale, pesa sulle spalle già affaticate degli imprenditori del territorio. Nei prossimi mesi tale spesa si ripeterà. Infatti la normativa prevede una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica. La differenza tra le due è che la pulizia consiste nella rimozione dello sporco visibile da oggetti e superfici con detergenti o prodotti appositi, mentre la sanificazione è un complesso di procedimenti e operazioni che rendono l'ambiente sicuro intervenendo anche sui punti nei locali non raggiungibili manualmente. Altri comuni d'Italia e molti anche della provincia di Salerno hanno intrapreso un'iniziativa lodevole per supportare effettivamente la ripresa delle attività commerciali. Per stare concretamente vicino ai propri cittadini hanno garantito la sanificazione a spese dell'ente, così da ridurre i costi della ripartenza per gli operatori del territorio e allo stesso tempo assicurare loro maggiore liquidità per affrontare altre spese indifferibili. Per questo motivo il consigliere di minoranza del comune di Castellabate Luigi Maurano ha inoltrato una specifica richiesta affinché anche l'ente di Castellabate effettui a proprie spese la prossima sanificazione periodica dei locali commerciali. Anche perché a Castellabate, sottolinea Maurano, c'è uno stallo preoccupante nell'azione amministrativa. A differenza di altri comuni qui ancora non è stata adottata nessuna misura di rilancio per l'economia, nessuna riduzione o esenzione dei tributi locali, nessuna organizzazione del settore turistico, nessuna programmazione degli spazi pubblici. Invece assistiamo solo a dirette interviste personali. Sveglia, conclude del consigliere di opposizione Maurano, c'è bisogno di azioni.